Dopo l'impresa sfiorata a Rimini, la marianese cattolica 1923 affronta in esterna la capolista aglianese. Nella gara d'andata i giallorossi ospiti furono costretti ad arrendersi ad alcune decisioni arbitrali che maturarono una sconfitta sul campo al Calvi per due reti a uno, non sfigurando. L'obiettivo è ripetersi anche in Toscana dove vengono lanciati a più minuto le novità Palumbo e Signori. Abita la gara a Zago della sezione di Conegliano. L'effetto sorpreso è quello attuato dalla formazione di Maurizio Gali che con Moricoli provvede da subito a scaldare i guantoni ad assaldi che è costretto a rifugiarsi con l'aiuto della difesa in corner. L'alianese non rimane a guardare, con Bregas sfiora la marcatura diagonale che si spegne a lato. Nella ripresa il tiro di Bellazzini viene respinto dall'attento Faccioli. Lo stesso Bellazzini poco dopo apre per Russo. Tiro debole. Intanto i tifosi di casa si fanno sentire al di fuori della recinzione. Lo stesso Russo prova a sbloccare la situazione. Ne viene fuori un tentativo da dimenticare. Sul versante opposto ci prova Mannuzzi la cui conclusione si perde a lato. In pieno recupero l'episodio che decide la gara non senza recrimini. Da un innoco traversone di Russo Garavini stoppa la sfera con la spalla. Da Repreci sembra che il tocco dei giocatori sia pulito ma l'arbitro assegna il penalty che Bellazzini trasforma dando all'alianese in una partita non certamente brillante anche grazie al merito della marianese cattolica. Tre punti che sanno di Serie C.